Eccoci qui come promesso vedremo come finirà l'assalto che molto probabilmente andrà a buon fine, sì o forse no, ora lo vedremo Siamo proprio sopra la fortezza, che figata Prossimo incarico, un insediamento a bisogno del tuo aiuto Tac, questo qua è il castello dei Minutemen in Fallout e che tac, però va a dare un'immissione ancora Tranquilo, ci penso io, come Secchiata d'acqua Sistemato Cosa? Oh, eh che cavolo Cosa? Non se l'era cavata? Eh che cavolo Ahia Ok Qui siamo veramente finiti malissimo Lui ha avuto sfortuna, ma noi forse è peggio ancora Eh che cavolo, ma io con la promessa, ora tu mi riporti a casa Va bene, io pensavo, oh, qua finisce la storia Che noi possiamo mancare tutti i sali e ciali, invece Raccogli esche Questa è un'esca? Mi sembra tipo un proiettile fatto male Vediamo, sì sì sì, lo so, lo so come si lancia un'esca, lo so Tac Che devo allontanarlo se non sbaglio Ora che lo allontano, noi li andiamo dietro e li facciamo Esatto Ma le pale erano davvero così affilate da mozzare, da tirare una paccata a uno Silenzio E mo' ci prendiamo anche la tua arma È un'arma faiga Bella, è la carabina, sì c'è la carabina, io faccio la carica del Sì, è la carabina, possiamo fare la carica della baioneta Next, next obiettivo Dove si va? A Gallipoli, a piedi Qua Un secchio, che bello il secchio direi Le texture del secchio mi Mi nascono perplesso Da quanto sono belle le texture del secchio Ma che dobbiamo fare? Che ho sentito? Ah, una lingua Piano Tu non hai visto niente Tacche te Non hai visto niente perché non mi hai visto Non aveva nessun'arma Torna alle Eh? Cosa? A piedi? Dalle finestre delle camere da letto Dettagli Una volta liberatomi di quei tedeschi mi sono incamminato verso il fronte inglese Cercando di essere Cercando di essere silenzioso come un gatto Va bene, cercando di essere silenzioso Certo Già la parola cercando Mi fa intuire qualco Qualcosa Cosa c'è? Oddio Ah Pensavo Oddio Mi hanno messo una bomba atomica Ah no, una bomba innesca Ora qualcuno mi spiega perché ho revolver Io non avevo revolver Ah già Ora mi tocca rifare da capo No 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 Non faccio da capo Taglio direttamente Passiamo come se non fosse successo niente Quello lì Quello lì Se ne sta andando un falò L'unico problema è che ha sbagliato gioco E che io posso attaccarlo Il prossimo Il prossimo errore che farò Non ve lo spoilerò Ossia Muto Esatto Ah gli abbiamo preso Le munizioni Ecco perché non mi dava l'arma No 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 Via così Pia E che cavolo ma tutti qui stanno Qua mi dice rifornimenti Eccolo qui Eccolo qui I rifornimenti che volevo Per passare a Sì Silenziatore al tempo Ah è una pistola Pensavo Accetta Accetta Si va meglio che mai Ho una pistola E una pistola col silenziatore Io vado in giro con quella col silenziatore Pecca Ma è un revolver Perché con un revolver Li posso Shottare Senza revolver Non li posso shottare Cerchiamo di andare Nel modo più si Silenzioso possibile Adesso cosa faccio Ne vedo 3 Ne vedo 3 Ah Esca 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 Dove la butto l'esca E cavolo To Puttun esca lontano Eccolo Eeeeee Ciao Ho sbagliato Ecco Ora quello lì si allontana Allontanati Allontanati Brutto te Allontanati Io faccio fuori il tuo compagno intanto Sperando che non se ne accorga No Disteso Disteso Sopra il suo stesso Bel lavoro Bel Lavoro No Non direi niente Però L'intellige Fuck Ok allora quando vedete una spuntina rossa Ti prego No Ecco qua Ecco Per fortuna che l'ho presa quella col silenziatore eh Passando ad altro Come torniamo indietro? Non c'è come torniamo alle Alle Dannato Ricordate Punta Esattamente Fortuna che l'ho trovata quella col silenziatore Se no io sarei già nella cac... Eeeh Ciao Fermo Fermo Cazzo Esattamente Hai messo in allarme un nemico Cosa? Oh cavolo Scappo 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 Pensavo va bene Non ha detto niente Quindi c'era silenziatore Quindi pensavo Vabbè magari non se ne accorto Eeeh non se ne accorto un cavolo Ah bene 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 Ops Abbiamo interrotto il contatto Il contatto visivo Quindi adesso Dobbiamo fare più silenzio possibile Cercando di non... Quell'era un topo? Non si ha Noop Benissimo Che lingua arrabbiata Vabbè ma perché? Eeeh Muto Però l'accetto è fighissimo No io mi tengo l'arma silenziata Anzi no dai 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 No non dimmi che il fucile... Ok la carabina Il fucile al cecchino Io non riesco a usarlo Dovrei... Dovrei... Secondo... Lo chiamo qua No non fa niente Facciamo così Avanti Avanti... Bravo... Lo chiamo qua Così quando si gira per tornare indietro Glielo piazzi Vorrei provare ad usare questo revolver Quasi quasi al posto del... Quasi quasi... Cominci a usarlo un po' Non dire nulla Non... Non girarti di qua eh Non girarti di qua Non girarti di qua Esatto Guarda è... Ho revolver che lo punta Cavolo Gli ho avvertiti nel senso... Se ne sono... Sanno già che son qui Perché li ha lanciati in aria tipo... Come se fosse stato un petardo Se ne sono accorti Vabbè... No... Quasi quasi se ne sono accorti Non è detto Eccolo... Adesso arriva Ma quanti rischi ho trovato io? Scusa che... Ne ho... Ne ho affiotti di... Di cose... Eccolo qui... Ricordate appena si avvicina Siamo un po' più su che... Magari... No sbirza... No... Quando arriva qui li tiri un accetta... Lo accetti... In senso cattivo... Eccolo... Ecco... Esattamente come dicevo... Lo accetti... Aspettiamo le linee... E che cavolo... Nooo... Dobbiamo passare di qua... Senti... Cerco di farlo silenzioso... Però anche in modo vero... Rapido... Non che perdo qui due ore... Non sento... Non sento lingue arrabbiate... Quindi qua non dovrebbe esserci nessuno... Dato che i nemici parlano spesso da soli... Spesso... Anche in preda alla fortuna solitudine di un insediamento... Vuoto... Oppure che sai già che prima o poi li ammazzaranno... Da un momento all'altro... Eccolo... Già... No... L'accetto però è OP... Quasi... Oh ma quanti sono? Si... Ok con il insediamento ma... Però... Dove sei? L'unico problema è capire da dove arriverà... Di qua... Ma come ha fatto... Ma come ha fatto a sentirmi da così lontano? Scusate... Non lo so... Questo qua è all'orecchia di un gatto... Benissimo... Io dico allontaniamoci... Che tanto questo qua non è che ci viene a cercare... Fino... Alla fine del... Fino in... In... Linea mi... Linea mi che... Inghilterra eh... O almeno così spero... Se hanno fatto bene le cose... Non credo... Torna le linee allerte... Quelle trincee hanno costati i migliori uomini del Kaiser... Speravo solo che molti di loro si aspettassero problemi da un'altra direzione... Lo speravo davvero... Esattamente... Cominciamo già a chiamarlo eh... Avanti... Quando non se ne aspetta nessuno... Andiamo li e ritiriamo e lo accettiamo... In tutti i sensi... Vieni qui... Fatti accettare... Già... Non l'ha sentito... Ho sentito un... Brom... Fa un casino tale che... Un'allarme attiva... Ah... Disattiva l'allarme... Che cavolo... Fortuna che non mi hanno visto... Piano... Ah non mi hanno ancora visto... Aprile il caso di armi... Questa... Questa... Scansatevi... Scansa... Ve lo dico... Adesso... Per sempre... Scansatevi... Che se vi becco questa qua... Voi non vi rialzate più... Passiamo dal lato... Spero che neanche nel lato... Ci siano... Ci sia gentaglia... Tipo... Croocoland... Qua c'è un albero che va a fuoco... Quindi... Nel peggiore dei casi... Troveremo uno con lanciafiamme... Nello scorso episodio però sono riuscito a ucciderne uno con lanciafiamme... Qui... Qui è tutto... Calcolo... Calcolo della relatività del culo che hai... Se... Se cadi nella trincea e non c'è nessuno... Bravo... No... No... Questa qui non si batte... Guardate comunque... Il caricatore è fatto di legno... Legno lavorato una roba... No... E vabbè... Ma allora voi mi odiate... Vieni qui... Esatto... Perché si avvicina in automatico? Ecco qua... Pianissimo... Una mia strategia lavorata nei miei due secondi di pensiero... Eccolo... Ora... Spero che non si metta in agare in gi... In giro... Se si mette in agare in giro... Lo accetto... Ah no... No... Non... Ti avviciniamo... No... Mi ha visto... Mi ha visto... Mi ha visto... Mi ha visto... Ah no... Veramente... Ma che... Che bravi uomini... Buon buon per me che non mi hanno visto... Però... Sinceramente io avrei sentito... Avrei sentito... Qualcuno che viene accettando... Tu sei da solo... Tu sei da solo... Concentriati... Tu sei da solo... Ok... Sei da solo... Moto... Ti accetto... Ti accetto per come sei... Non per il guerriero che credi di essere... Ah la direzione è giusta... Io stavo... Stavo dicendo... Mi sa che stiamo sbagliando di direzione... È meglio tornare indietro... No... È la di... Oh mio Dio... Oh mio Dio... Ma come ha fatto a non lottare... O me è riman... Me è incoglionito... Qua vedo l'ombra... 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 L'ombra maledetta... Tac... E anche quello lì mi ha sentito... Ma scusa... Ma come fa... Come ha fatto a non vedermi... Io non si credo ancora... Boh... Ma... Si vede che quello che mangiano quelli... Da allucinazioni... Ma in effetti... In effetti... Nessuno si aspetterebbe... Un assalto da dietro... Quindi... Potrei anche capirli... Ma stanno... Sparano contro di me... O sparano contro i grucchi? Le decine di mitragliatrice tedesca... Alle mie spalle... Mi incoraggiavano a tenere giù la testa... Ah 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 ah... Diverta... Sì sì... Meglio star giù... Meglio star giù... Finciamo di essere un tomo... Qua mi sa che... Terra di nessuno... Era un labirinto di filo spinato... No... Ah... Già non ce lo spav... Cazzo lo dovevo dire... Identifichiamo qualcuno con lo spav... Foll... Ah... Ci assomiglia... Ma non è fallout... Che peccato... Da che se abbia così fatta... Mi sa se c'è qualcosa di utile... Dai... Un aero... Un aero... Un aero messo malino... Ma tanto... Io riciclo e me lo costruisco uno da zero... Tiè... Cosa? Ma hai detto che non c'è... Ai... Hai detto che era morto? Ma ormai mi ero già rassegnato... Mi dispiace... Hai promesso di riportarmi a casa sano e salvo... Beh in effetti... Beh in effetti... E le nostre medaglie... E il diventare eroi... Eh ma... Scusa ma... Non sono un eroe... Non sono un eroe... Sono Zossina... Paparapà... E allora mi aiuti... Sei un fottuto bugiardo... Buono a nulla... E se fossi tutte e due... Guardandomi negli occhi... Ma io non devo ancora capire... Cos'è che gli ha conficcato... Gli ha più complicato tipo una scheggia... Qua... Da quello che ho visto... Eh... Ah... Allora... Che cosa sei? Metti le carte in tavola Blackburn... Metti le carte in tavola... Ah... Lo sa? Ma che ca... Allora lo sapeva... E perchè non è... Vabbè... Ok... Beh sinceramente preferiva a me... Un conte del cavolo... Sinceramente... Eh... Io ci sono rimasto... Pessima idea... Nooo... Pessima idea... Tornagli lì... Leate... Come a pieci... Eh... Li metti... Come dire... Boh... Li metti un fazzoletto nella verità... Ti è finito... Ti fa male cane... Ti fa male cane... È già tanto se sei ancora vivo... Volevo lasciarti là io... Eh... Non puoi usare le armi... E noi facciamo finta di essere tedeschi... Va bene? I tedeschi non mondano mai la presa... Ah... Hanno fatto tutto il giusto per catturarci... Che cavolo... Ah quelli sono morti... Ok... Nooo... Ci ammazzano... Ma... Dato che sono morti... Vuol dire che siamo quasi... Alle linee alleate... Quindi... Spero che... Quindi spero che... Notandoci... Dicano... Ah no... Quelli sono alleati... Quindi... Lasciamoli vivi... E non che si sparino tutto quello che vedano... Oh ca... Evita i riflettori... Grazie per avermelo detto... Evita i riflettori... E intanto... Come faccio a evitarli così lentamente? Evita i riflettori... Evita i riflettori... Dove sono i riflettori? Si... Lo so... Meglio morire che pensare che siamo tedeschi... Si... Fatelo... Eh... Era bello il Voyage... Ha fatto un volo da farmi pensare tipo ma... Da... Da che paese... Da che paese vieni? Non so perché ha fatto un volo... Può anche provenire da... Dalla... Dalla sazia... Dalla sazia... Dalla sazia... No... Poterebbe un po' di protezione... Aiuto... Piano... Non puntarmi... Non puntarmi... Wow... Dai che adesso passa... Dai... Vai 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 vai... Dai che c'è un fosso... Un fosso... Nooo... Sono su tacco... L'effetto dell'acqua però... Non dico che sia brutto ma... L'hanno fatto bene addirittura in Fallout quindi fate conto voi... Aspettiamo qui che passi... Esatto... Sì... Ok... Io adesso mi avvicino a voi... Però non sparatevi... Mi raccomando eh... Ho sopportato tutto e di più... Però... Se mi sparate siete dei figli della merda... Un secondo... Ma il riflettore dovrebbe puntare lontano quindi... Quello è inglese... E' stato un bel casino... In mezzo a crookie... Mette le altrici alleate... I riflettori... Ma alla fine ce l'abbiamo fatta... E nel prossimo episodio vedremo come andrà a finire... Se ci spareranno gli inglesi oppure se... Se boh... Ci salveranno o qualcosa di simile...